In questo video interessantissimo faremo una challenge stranissima, infatti io per adesso posso ancora dire la F Ma poi non potrò più dirla e Zerbi sarà qua a controllare perché se io dicessi la F lui mi dirà Octi devi terminare il video e il video terminerà, non so se ce la faremo, Zerbi secondo te ce la faccio? Secondo me tu non ce la fai mai mai, impossibile Allora il momento di dire la F adesso finché ancora posso dirla, vi ricordo codice OctiPFI nello shop Ve lo dico adesso molte volte perché poi non lo posso più dire, OctiPFI, OctiPFI, codice OctiPFI nello shop Iscrivetevi al canale perché stiamo per arrivare a 300.000 iscritti raga, dai ce la possiamo fare Lasciate un piaccio al video e soprattutto andate a seguirmi su Instagram OctiPFI Detto ciò direi subito di iniziare Zerbi, sei pronto? Prontissimo Ci sono già tante città che non posso nominare ma per Stavo per dire ciò che Ma per grazia la città che mi piace, ossia, aspetta che controllo, moli molesti Non contiene la lettera proibita Ma mi spieghi perché anche quando non c'è la lettera parli al rallentatore? È perché non sono sicuro che ci sia, allora devo un attimo pensarci Ma scusa Octi, com'è che si chiama questa città qui che ho appena pingato? Perché non so perché non leggo bene il nome Molimolesti si chiama No, no, quell'altra che ho appena pingato, quell'altra, quell'altra Ah, molimolesti? No, no, leggi bene, leggi bene Ah, quella di Zio Tobia Eh, adesso proprio non mi ricordo come si dice Strano Eh, strano sì, strano sì Ma tu hai visto nemici per caso da queste parti? Eh, da queste parti non ho visto, non ho visto nessun nemico Sconta una cosa Sentiamo Aspetta che sto pensato una cosa per farti dire la F Aspetta, aspetta, aspetta un secondo Ah Ah Troverò il modo a fine del video di fartela dire Sicuramente Secondo me proprio no Secondo me sì No, 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 no Ho trovato gli scildini Hai bisogno di uno scildino? Però fai trappolidere come parli Comunque sì, ho bisogno di uno scildino, sì Va bene, eccolo qui per te Speriamo di non incontrare nemici e di vincere la partita Ok, oh comunque ti è andata bene perché la F è una lettera che non si dice tante volte Cioè, devi farlo con l'A, con la B, non con la F Non è vero, si dice tantissimo invece La F Assolutamente sì Pensa al mio codice supporta un creatore Ah, il codice No, non quello Ah, ok Ah, il codice OctiDFI Proprio quello Aspetta, ma pagliare il codice che non me lo ricordo Eh, ma era proprio quello che hai detto prima L'hai detto giusto Eh, ma mi sono appena dimenticato Allora torna indietro col video e lo vedi Un voto di memoria Eh, vabbè dai Lo puoi trovare sopra di me in caso Poi Octi, ma poi un'altra cosa Hai visto che hanno appena rimesso l'arco? L'arco? L'arco l'ho messo, sì Però io Cos'è che spara l'arco, fra? Eh, i dardi I dardi? No, no, no Ma avevo un altro nome, ti giuro Sono sicuro che avevo un altro nome Cos'è che sparava l'arco? Proprio non mi viene in mente in questo momento, eh? I vettori I vettori, sicuro I vettori Ma i vettori non sono una cosa di geometria, fra? Vettore è l'altra parola che stai cercando di Di Obbligarmi a dire Eh? Sono sinonimi Secondo me Aspetta, qual era il sinonimo di vettore? Che non me lo ricordo più Anche quello Eh Non lo so So che in inglese Si dice Arrow Ma in italiano lo voglio sapere Non in inglese Eh, ma non mi ricordo proprio al momento Ah, ma che sfiga che non te lo ricordi neanche te, eh? Sto prima di andare avanti col video Quanti di voi hanno un computer per la patate Che non riuscirebbe a reggere niente Oltre a Fortnite? E forse è malapena riescono a reggere anche Fortnite Addirittura alcuni di voi non hanno neanche il computer per giocare a Fortnite Giusto? Beh, non preoccupatevi Boosteroid risolve tantissimo questo problema Cosa è Boosteroid? È un sito di cloud gaming Cosa significa? Ora ve lo spiego Voi sfruttate la vostra connessione a internet Per giocare ai giochi top di gamma Perché il computer potente Il computer da gaming Ce lo mette Boosteroid Mentre voi dovete avere solo la connessione E un computer per la patate qualsiasi Oppure un telefono per la patate O qualsiasi cosa che vi permetta di giocare a questi giochi qua 50 giochi gratis e oltre 150 a pagamento Tra i giochi più famosi Tra cui Apex Legends, Warzone, Call of Duty, Grand Theft Auto 5, Fortnite e tanti altri E per giocare a questi giochi fighissimi dal vostro computer per la patate Non vi resta altro che fare uno degli abbonamenti Che ci sono Che possono essere da 3, 6, 9 o 12 mesi E costano veramente veramente pochissimo Ossia 4,16 euro al mese Che è veramente il costo di un caffè Pochissimo Non perdete questa occasione perché sarebbe da stupidi Rinunciare a giocare ai nostri giochi preferiti Perché magari non abbiamo la piattaforma adatta Perché ora Boosteroid ha risolto questo problema E voi non avete più scuse Sarebbe proprio da stupidi sprecare un'opportunità così Quindi cliccate sul link in descrizione per più dettagli Ma tu quando vai al McDonald's cosa ordini? Big Mac, 20 chicken nuggets, 2 panini piccoli e le patatine Basta Ma sei un mangione Eh hai visto? Ma sei un mangione E tu invece cos'è che ordini? Io ordino un gran crispy mac back on menu Ok Grande 20 mac nuggets Non c'è la F qui E poi? E poi 2 hamburger Ah vabbè Fai ordini come me Cioè uguale Eh praticamente sì Solo che tu prendi il 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 Big Mac Mentre io prendo il gran crispy mac back on Ah ok 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 Eh è vero Ma non ci sono i nemici in questa partita Diamine Ma tu Octi quando vedi un nemico dov'è che lo vorresti prendere? Dov'è che lo vorresti colpire? In headshot No 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 ma c'è proprio una parte specifica e non in headshot In testa No non in testa neanche in testa dai In Com'è che si chiama quella parola? Neanche in testa Octi No non Non ho capito proprio Sa Quando tu prendi un nemico dov'è che lo devi colpire? In In testa No non in testa Dove? Nella hitbox Neanche nella hitbox No No Non lo so Veramente non capisco la parola che sei Ti infaccia La devi colpire Ti infaccia No Per niente Non mi sarebbe mai venuto da dire questa cosa Zerbi mi sa che non riuscirai a obbligarmi a dire la parola proibita Ah Secondo te fallirò 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 È molto probabile che tu non riesca Oh ma non ci sono proprio nemici in questa partita Hai visto? Eh ma sai perché? Leggono codice È normale che non vengono da noi Dai Allora è meglio non metterlo Altrimenti guarda che partite noiose Eh però nemmeno si vincono Ma chi se ne frega È molto meglio Non È molto meglio È molto meglio Voglio combattere ma non vincere piuttosto che Posso sapere invece una cosa Qual è il codice che bisognerebbe usare nello shop? Quello che la gente legge sopra la mia testa Ok ma io in questo momento favo male C'è un nemico C'è un nemico nella casa C'è un nemico nella casa Aspetta 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 Devo tirarmi gli shieldini Altrimenti qua prendo danno Arrivo anch'io Attenzione Uno è morto? Eh anch'io Sto arrivando Octavian Sto arrivando Aspetta un secondo Octi A me non piace il pompa del nonno A me piace il tattico Vieni qua Octi Vieni qua Entra Ha proprio prestazioni basse Il pompa del nonno Non di colore viola Oro Comunque secondo me Mentre combatti Prima o poi ti scappa Per forza Perché non puoi concentrarti su due cose contemporaneamente E invece io posso Come ti ho dimostrato Sino ad adesso Morendo? Eh beh Chiaro Chiaro? Chiaro Se nella parola chiara Ci fosse stata la F Avresti perso subito Chiaro La prossima sfida Se raggiungiamo i 5.000 like Sarà con la C Eh sì Lì mori dopo Perdi dopo un secondo Un secondo Sì è vero E raga Questa sfida la dico io Se il video arriva a 10.000 like Octi lo fa con la E se perde Senza imbrogliare Mi regala una sfida 2.000 V-Bucks No Non puoi rifiutare No Come no? Come no? Sì che posso Sì che posso Negare la tua proposta Ah stavi dicendo rifiutare Eh Portiamoci a casa Questa Vittoria Royale Non si può usare Correttamente il congiuntivo Quindi perdonatemi Ma io sapevo che tu eri Bravissimo a giocare Io sapevo che tu eri bravissimo a giocare La tua proposta è italiana Però ti devi insegnare meglio A parlare in italiano Eh ma a me piacerebbe Parlare correttamente Ma non posso E come mai non puoi Eh perché ci sono delle lettere Che non posso dire Cioè Eh Eh Non le posso dire Guarda Non mi esce Certo che sei Scarso A Sei scarso A essere colpito In questo modo Oh l'ho vista Lì dietro l'albor Eh ma No Cosa Cosa Ma come è possibile Dai Octi Però non puoi morire così Dai Octi Dai Dai Fra ma quante c4 Ho lanciato questo Ma dai Mi sa che purtroppo La nostra partita Terminerà qua Eh E ci sono altri nemici Che sono qui Vieni Vieni qua a rianimarmi Dai ho sei di vita Arrivo sto correndo Octi Sono morto Strano Vediamo come te la cavi Ma vai Fammi un bel commentary Vediamo Zerbian Che si Ah Ah Gigi Gigi bro Gigi bro Gigi bro Entri nel team Gigi bro Ho fatto proprio schifo In questa partita No Raga ve lo ricordo Molto velocemente Boosteroid Link in descrizione Trovate tutte le informazioni Che cercate Vedete tutti i giochi Più figli A cui potete accedere Tramite Boosteroid Veramente non dovete Perdervi questa opportunità